Bella raga, eccoci ritornati con un nuovo video, questa volta non parliamo assolutamente di calcio vorrei fare un video, vorrei fare gli auguri a un grande youtuber che oggi compie gli anni non vi dico quanti, anche perchè è più grande di me comunque un grande youtuber che ha quasi 3200 iscritti, se non sbaglio 3188-990 che se li merita tutti, ed è il grande boss Kartal, kartal boss, ex kartal curva nord il mio grande amicone, tifoso dell'inter ci divide soltanto praticamente la squadra, poi il resto andiamo d'accordo su tutto forse lui credeva che mi dimenticavo del suo compleanno, invece no, ti faccio questo video solo per te questo è un breve video, solo per farti gli auguri e per augurarti buona fortuna in tutto sia a livello personale, sia a livello di youtube, in tutto, soprattutto perchè tra poco cioè tra un annetto credo, hai in mente di aggiungere anche tu al mondo degli sposati e quindi ti metterai definitivamente le manette e verrai con noi in carcere comunque a parte gli scherzi, ti auguro davvero tutte le fortune del mondo ti auguro un buon compleanno ancora e stai facendo vecchio amico mio e poi ci vediamo a settembre per le famose live, soprattutto con l'anena sportiva, con la tua dolce metà e niente, ancora auguri e ti auguro una buona giornata e mi raccomando, passala bene sempre fino alla fine Kartal per me è sempre fino alla fine Forza Juve e comunque, buona giornata e ciao a io